Ultimo giorno di servizio per Enrico Desideri che lascia la sua carica di direttore generale della ASLE Toscana Sud. Da Firenze ci hanno provato a trattenerlo ma non è stato possibile e prima di andarsene è arrivato il botto con la nomina del nuovo responsabile di chirurgia. Era una nomina che è a molto attesa, con i tempi burocratici ci sono voluti quasi nove mesi come per fare un bambino, ma insomma questi sono gli impegni che la legge ci impone. Dottor Marco Di Prizio ben arrivato, anche se lo conosciamo già tutti perché lui era già operativo. Esatto, già operativo, era facente funzioni. I risultati della chirurgia di questi ultimo anno, diciamo l'ultimo anno, sono stati straordinari, anche quelli precedenti ma proprio freschi, freschi dati dell'ultimo anno e devo dire insomma risultati anche suoi personali molto buoni sia in chirurgia open come si dice aperta che in quella robotica più innovativa. Per desideri dieci anni fantastici sotto tutti i profili. Una realtà fatta da professionisti appassionati, abituati a gestire la responsabilità anche in autonomia, insomma assumersi le responsabilità, dicevo appassionati e orientati all'innovazione. Fare tante innovazioni è quella di porre attenzione alla salute di tutti, non lasciare nessuno indietro. Non sono stati sempre momenti facili però il rapporto con Arezzo è stato splendido. Le tante cose che anche lavorando qui a Arezzo, anzi soprattutto lavorando a Arezzo ho imparato, insomma mi piacerebbe che non fossero dispersi.